ciao a tutti da me e da rosettino molto bene allora eccoci qua con l'uovo del sabato ormai c'è il vincitore del giovedì e c'è l'uovo del sabato perfetto oggi siamo qui con quello di fedez olè allora è della stessa marca di quello di elettra walcore ok e qua e qua ci dicono ancora con una fantastica sorpresa abbiamo visto che con elettra non era così fantastica questa sorpresa secondo me dovevano scrivere semplicemente con sorpresa fantastica lasciarlo proprio da perdere lasciarlo perdere ok non ci interessava la fantastica perché non era fantastica ok comunque allora vediamo un po vediamo un po l'uovo come si presenta perché sto guardando che la carta è veramente molto bella non bella come quella di elettra però 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 partiamo che ovviamente il ciuffettame non si vede perché è in alto comunque c'è scritto by fedez e poi abbiamo infatti mi aprito un po tutti questi disegnini c'è l'alieno una piramide un fantasmino un dente un coso qui cutter qui ed è tutto così tutto uguale anche qua c'è il game boy qua cosa c'è scritto top molto 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 carina come carta ok ci sta e ora invece passiamo a cosa ci dice qua praticamente mi sa che sono i stessi disegnini che ce l'hanno qui però va bene mi sono appena accorta allora walcore cioccolato finissimo al latte con una fantastica sorpresa fantastica mettiamolo tra virgolette perché non mi fido più qua c'è fedez versione un po cartone animato non lo so disegnato boh con tutti i tatuaggi e poi c'è scritto by fedez perfetto vediamo un po l'uovo è da 150 grammi e qua sotto c'è la carta di scadenza allora non ve l'ho ancora detto l'ho preso alla lidl si ed era scontato a 5 euro e qualcosa praticamente come quello di elettra ok ok perfetto ora direi che è cominciato è cominciato giunto al momento di aprire l'uovo e di aprire questa fantastica sorpresa l'uovo in teoria è tutto intatto quindi stacchiamo qui guardate che bellillino però qua ci sono cose scritte ve li faccio vedere nel caso qualcuno interessi nel caso mettete pausa tac e ora mettiamo qui si deve leggere perfettamente fantastica sorpresa qua abbiamo lo scotchis qua abbiamo lo scotchis che non trovo la partenza lo start porcaccia la pupazza quindi prendiamo la forbicina prendiamo la forbicina qua è che se sto spacco l'uovo mi inciufono eh ok adesso dovrei averla creata io la partenza esattamont esattamont molto molto buono molto buono eccola qua dove ho la partenza e va bene ormai abbiamo fatto così e tutto questo scotchis non ci serve più ora vediamo ah no c'è ancora dello scotchis porcaccia quanto scotchis hanno messo ok vediamo se non siamo l'altro ah ok guardate che carina è questa carta oh mi sa che è volato l'uovo allora qua c'è l'uovo lo prendiamo e lanciamo la carta ok 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 adesso prendiamo qua lo scotchis e abbassiamo l'inquadratura dove sei pomettino dove sei pomettino eccolo lì allora una fantastica sorpresa si deve leggere pomettino lo mettiamo qui e lo scotchis come l'ho faccio d'altro volevo fare le cose fatte bene e ovviamente ovviamente no questa sorpresa ok questa fantastica sorpresa come ci dice Fedez non si muove tanto sentite sembra essere così però io mi sto ungendo qua c'è la scodellina e adesso capiamo cos'è guardate che è rotto ma no ma c'è un bis c'è un bis porcaccia la miseria porcaccia la miseria guarda che non mi sembra nemmeno messo fuoco io metto fuoco e ci illumina tutto cos'è sta roba cos'è sta roba cos'è questa roba a parte io che mi sono unta tutta porcaccia la miseria c'è una bustina ecco perché una bustina una bustina a parte questo cioccolato qua che mi sta ungendo tutta allora mettiamo via il cioccolate il cioccolate lo mettiamo via il cioccolate e lo mettiamo qui ora capiamo che cavolo c'è nella bustina un po' mettino puoi venire più avanti bravo questa sarebbe una fantastica sorpresa mi girano le balle non prenderò mai più un nuovo con scritto fantastica sorpresa perché uno poi c'ha le vibes guardate mi sono troppo agitata perché non è giusto allora zik 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 porcaccia la miseria momenti di silenzio perché sto cercando di capire cos'è penso siano adesivi sì sono adesivi sono adesivi praticamente gommosi cioè quelli un po' più come si dice pomposi e penso siano guardate che sto guardando la carta un po' le cose che c'erano disegnate su qui perché sta mettendo Fosco Fedez via le cose che c'erano disegnate sulla carta e su vedete tutta sta roba qua quindi c'è anche quello che ho scritto top 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 ok questi sono tutti gli adesivini io cosa ci devo fare adesso con questa roba porca miseria fantastico per il momento per il momento la sorpresa secondo me più carine delle uova che abbiamo trovato questi qua di Fedez e di Elettra sono quelli molto molto bene quello delle principesse era wow wow anche quello dei cuccioli della fattoria che non sto più trovando porcaccia la miseria ne volevo prendere altri ma non li sto trovando più io però li cerco perché vorrei trovare il porcello molto bene e poi quello delle principesse molto bello quello della Lollero molto soddisfatta invece quello della Lettra è Fedez qua è la cartina di Fedez e vediamo cosa ci dice stickers semplicemente stickers dovrebbero scrivere stickers fantastici ok 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 vi dico vi spoilerò che ho un altro o altre uova un altro uovo come cavolo si dice di questa marca spero che le sorprese che ci siano dentro siano più belle però non vi dico ancora che cos'è lo scoprirete la prossima volta e niente non c'è più niente da fare qua perché la sorpresa è già finita adesso questi adesili qua boh magari non so cosa me ne farò e niente fatemi un po' sapere voi se avete preso l'uovo di Fedez che cosa avete trovato dentro fatemelo sapere no perché voglio sapere se magari ci sono altre sorprese cosa si può trovare cosa no perché effettivamente qua non c'è scritto niente mica mi posso inventare le cose e niente devo dire che tra tutti mi piacciono ehm sì sono carini dai però vabbè non c'è più niente non diciamo niente non diciamo nient'altro porcaccia la pupazza comunque ehm io vi ricordo Instagram link Amazon e Patreon giù nell'info box ci sono tutti i link very very well tu Pomettino sei abbastanza soddisfatto diciamo sì ok dai siamo tutti abbastanza soddisfatti molto molto bene Pomettino è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao